Ciao a tutti, bentornati sul canale! Eccomi qua per un'edizione speciale della rubrica che ogni mese tengo con Daniela del canale Insolitamente Makeup e la rubrica è Londra chiama taglio e questa è un'edizione speciale perché questo mese io e Daniela ci siamo scambiati dei regali e abbiamo pensato appunto di inviarci delle cose che ci piacciono di più quindi adesso io scarterò in diretta il regalo, ecco qua il pacco che mi ha mandato Daniela grazie Daniela, adesso vediamo subito cosa c'è dentro, ci sono appunto le cose che sono piaciute di più a lei collegatevi poi al canale di Daniela così vedrete cosa ho spedito io a Daniela e quali sono insomma i prodotti che io le consiglio apriamo subito il pacco, vediamo, allora c'è una lettera, c'è un biglietto di Daniela, lo leggo subito e vabbè Daniela mi dice cara Barbara finalmente la nostra idea prende fuori ma sono molto contenta della nostra collaborazione e poi vabbè praticamente adesso non vi leggo tutta la lettera di Daniela perché è una cosa privata comunque qui mi dice un abbraccio fortissimo e grazie per essere così speciale grazie a te Daniela per la tua amicizia e quindi adesso non vedo l'ora di scartare il tuo regalo allora quindi c'è questa bella bustina così panna, color panna dentro ci sono dei pennelli per il trucco, tre pennelli, questi sono per gli occhi mi pare hai brush, sì, bellissimi perché Daniela come sapete è una makeup artist e quindi mi ha fatto questo bellissimo regalo sa insomma che io amo truccare gli occhi e questi sono comodissimi, grazie Daniela non vedo l'ora di provarli, ce n'è uno piccolino, uno di media grandezza e questo qui invece è quello un po' più grande proprio per fare la sfumatura, grazie mille, questi sono utilissimi, li userò prestissimo e poi c'è una cosa molto, che lei ama moltissimo le t-shirt e mi ha mandato una t-shirt bellissima colore è giallo, guardate un po', c'è un bel fenicottero, quindi è una di quelle t-shirt super estive il fenicottero mi è simpaticissimo come animale e questa è una bellissima t-shirt, non vedo l'ora di indossarla, grazie, grazie Daniela la marca è Yoshi ed è appunto color giallo grazie, è bellissima, la indosserò sicuramente e poi c'è un altro pacchettino andiamo ad aprirlo è super impacchettato, questo qui, tanto regalo cara Daniela, hai impacchettato tutto benissimo ah, e sono, ed è una maschera per il viso lei sa che a me piacciono tantissimo questa è della marca HQ, maschera rassodante anti-età all'estratto d'uva, va bene, la proverò subito poi c'è, ah, uno scrub, uno scrub per il corpo questo è di Geomar, è un sugar scrub drenante effetto anti-acqua, quindi va benissimo insomma, in questo periodo ci vogliamo fare belle per la prova costume, per il mare, grazie lo proverò con molto piacere e poi ci sono altre due maschere per il viso e queste sono idratanti anti-stress con aloe vera e bio fiore di Altea bene, queste di Geomar io le avevo provate tanto tempo fa mi erano piaciute questa è una novità per me quindi sarò felicissima di provarle insomma, questi erano i regalini che mi ha spedito la mia cara amica Daniela io sono felicissima, grazie Daniela sono troppo contenta, insomma, di questa collaborazione e anche di questa novità che abbiamo voluto insomma, fare questo mese e quindi adesso io proverò questi prodotti e poi vi farò sapere come mi sono trovata ma sicuramente mi troverò benissimo perché se sono dei prodotti consigliati, insomma, da Daniela saranno sicuramente top quindi io vi saluto vi rinnovo l'invito ad andare a vedere cosa ho regalato io a Daniela quindi collegatevi vi lascio tutte le informazioni qui sotto dell'info box per trovare il canale di Daniela e quindi niente, io vi saluto se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like scrivetemi un commento io vi risponderò e se non vi siete ancora iscritti che cosa aspettate? iscrivetevi e partecipate al giveaway ciao, al prossimo video ciao ciao ciao